Indeciso aumento, in 6,3 milioni, oltre 100 mila in più rispetto alla sera barra notte del San Silvestro 2017, gli italiani che scelgono il ristorante per salutare l'anno vecchio che se ne va e l'arrivo del nuovo. Sono 93 mila, il 78,4% del totale, i ristoratori che hanno scelto di rimanere aperti per la notte di a sé silvestro sperando in un aiutino all'aumento del fatturato 2018, che, complice la crisi, non è certo stato all'altezza dei bei tempi. Lo rileva FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi Conf Commercio che segnala in un comunicato come i dati confermino che sono sempre più gli italiani che preferiscono celebrare l'ultimo dell'anno fuori casa, sebbene il costo a persona non sia in genere decisamente di poco conto. In ogni caso, l'86% dei ristoratori si dice ottimista sulla possibilità di riempire il locale. 9 ristoranti su 10 puntano a offrire solo la cena per la notte di Capodanno, mentre solo il restante 10% ha deciso di prodigarsi nella messa appunto per i propri clienti anche un vero e proprio veglione, con spettacoli dal vivo e musica. Punto per quanto riguarda i prezzi, per il solo cenone FIPE prevede che occorrano appunto in media 80 euro a testa, mentre per cenone più veglione se ne potranno spendere fino a 94 euro, o naturalmente anche ben di più se la scelta di Kipo cade su un locale di alta classe con menu ricco di prelibatezze e la presenza di artisti di chiara fama. La spesa complessiva stimata per i festeggiamenti della notte di S. Silvestro è di 507 milioni di euro.